Negli ultimi cinque anni aveva dimenticato di dichiarare al fisco oltre un milione di euro di compensi il noto youtuber romano CiccioGamer89. I finanzieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per omessa dichiarazione dei redditi e dell'IVA. Le fiamme gialle del primo nucleo operativo metropolitano hanno fatto accertamenti sulla posizione fiscale sia dell'uomo, tra i più affermati in Italia per numero di follower e soprattutto tra gli adolescenti con 3,5 milioni di iscritti al suo canale che della società a lui riconducibile appurando l'omessa presentazione della dichiarazione annuale per le imposte dirette e dell'IVA.